Siamo con Roberto Marangoni, presidente dei Botemponi, che ieri ha partecipato all'assemblea regionale di Venetnia ed è stato eletto nel direttivo regionale dell'associazione. Allora per prima cosa gli chiediamo che cos'è Venetnia. Venetnia, nata nel 2008, è l'associazione gruppi di tradizione popolare del Veneto. È un'associazione che è nata con il desiderio di raggruppare tutti i gruppi folcloristici della nostra regione per promuovere le tradizioni, per promuovere il folclore, le cante, le ballate, attraverso convegni, attraverso studi e attraverso anche un raduno regionale che coinvolge tutte le associazioni folcloristiche e che ogni anno si svolge in una città diversa del Veneto. Marangoni rappresenta tutto il Polesine, tutta la provincia di Rovigo nel direttivo regionale. Che cosa rappresenta questo incarico? È un incarico che ho accettato proprio perché mi è stato chiesto che con la mia elezione avrei rappresentato la nostra provincia e questo mi ha fatto enormemente piacere perché in tutto il Veneto che ci sia Rovigo che parla, credo sia importante. Quando è il prossimo raduno regionale? Il prossimo raduno regionale, saltato per il Covid già da due anni, si terrà in primavera probabilmente acceso o maggiore in provincia di Belluno. Dico probabilmente sempre per la questione delle restrizioni. Verità, ci sono varie richieste, ci sono gruppi folcloristici veneti che festeggiano 50 anni, chi 40 e vorrebbero portare nella loro città e nella loro provincia il raduno. Qualcuno ha parlato anche di farne più di uno, il prossimo anno vedremo, adesso ne parleremo con il direttivo il primo di dicembre. I bontemponi sono reduci dalla trasferta a Grugliasco, tre giorni per l'anniversario dell'alluvione. I prossimi impegni? Adesso ci stiamo preparando per le iniziative natalizie, ormai siamo prossimi, le nostre iniziative di beneficenza con i babbi natali, stiamo lavorando anche per il progetto grafico del nuovo calendario e poi ovviamente stiamo sempre facendo le prove per il nuovo disco che anche qui siamo in ritardo di circa due anni, speriamo che nel 2022 si riesca a terminarlo.